Questa è la mia live reaction ai rigori di Ventus Napoli dell'altro giorno in finale e Coppa Italia. Qualcuno l'avrà già visti, il live su Twitch, qui su YouTube invece è ancora un inedito, una novità, vi invito a lasciare un mi piace a questo video per provare almeno a farmi tornare il sorriso, ma ormai quella cupa l'abbiamo archiviata, questa sconfitta l'abbiamo archiviata, doppio video di oggi, quindi non lo so, forse fa male rivedere queste cose, però io vi ho portato video lo stesso, se avete le palle guardatelo. Dai Paolino, sinistra. Bravo Meret. Bravo Meret. Bravo Meret. Gigi, sei l'eroe. Gigi, sei l'eroe. Ben rigore di insegna, sì. Dai Gigi, ce la rifacciamo, dai rigore, dai, ce la rifacciamo. Ce la rifacciamo. Danilo, 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 Danilo. Danilo Non si può battere un rigore del genere Non si può tirare un rigore del genere Non si può tirare un rigore del genere Eh Gigi lo so che c'è quella faccia lì No! Non si può tirare un rigore del genere No è al cazzo uno dentro No è Leo! L'importante è che entri Non mi interessa schifo o non schifo Non mi interessa schifo o non schifo Come Zidane al mondiale Eh sì C'è Maximovic anche per il Napoli Maximovic Madonna Gigione Gigione fammelo Gigione fammelo Tre uva Quindi Ronaldo ultimo Ronaldo ultimo Eh press Dura eh Tutta la preoccupazione di Adriano Spiazzato in red Segnaranze Al prossimo Può essere Il rigore decisivo Anche questo Ha guardato il portiere E poi con Interno a piede Ha spiazzato nettamente Vedi proprio lo guarda Si ferma anche un po' Quasi centrale Ma in parale Arcadius Arcadius E' Arcadius E' Arcadius Facci vedere se vuoi venire la Juve Buttala fuori Che vince la sesta Coppa Italia Ma questa è soprattutto La Coppa di Rino Gattuso Che guardando al cielo Potrà dedicare il suo primo trofeo Da tecnico Alla sorella Francesca Circondato Dall'affetto Di Napoli Esulta il Napoli Con il massimo Il presidente De Laurentiis Scende le spazze Complimenti al Napoli Complimenti a Gattuso Un buon pensiero Per sua sorella Una gioia per Rino L'unica cosa Che mi fa piacere In questo momento Un buon pensiero Un buon pensiero Un buon pensiero Un buon pensiero Grazie.